Calcola l'area del triangolo ABF dove AB sono i punti di intersezione della retta di equazione Y uguale a meno 2X più 3 con l'ellisse di equazione X quadro diciottesimi più Y quadro non uguale 1 F è il fuoco dell'ellisse di ascissa negativa. Questo è un problema che stiamo risolvendo, ne stiamo risolvendo un po' riguardante l'argomento, ve lo ricordo, posizione reciproca di una retta rispetto ad un'ellisse. Questa è una parvenza di problema un pochino più, non dico complesso, ma un pochino più articolato nel quale ci danno l'ellisse, ci danno una retta, quindi dobbiamo calcolare ovviamente i punti di intersezione AB di queste ellisse con la retta e lo andiamo a fare. Ovviamente io qui non ho scritto uguale 1, ho dimenticato di scriverlo. L'equazione in forma caronica di un'ellisse X quadro diciottesimi più Y quadro non uguale 1 vi ricordo che l'ellisse avendo A quadro che è 18 e B quadro che è 9, A quadro maggiore di B quadro è un'ellisse che avrà i fuochi di sicuro sull'asse delle X. Peraltro radici di 18 è A, asse maggiore, radici di 9 e quindi 3, sarà B, asse minore. E quando A quadro, ripeto, maggiore di B quadro significa che i fuochi stanno sull'asse delle X. Io direi di intersecare questa ellisse con questa retta. Prima di farlo magari mi scriverei, visto che il minimo comune multe per fare 9 e 18 è 18 perché 18 è 9 per 2, moltiplicherei per 18 entrambi i membri di questa equazione ottenendo X quadro più 2Y quadro uguale a 18 per 1 che è 18. Dove ho fatto 18 e ciottesimi che è 1 per X quadro per X quadro, 18 noni che è 2 per Y quadro, 2Y quadro, 18 per 1 fa 18. E appunto applicando un metodo, direi, di istituzione, metterei la Y in questa, metterei la Y in quella prima equazione ottenendo X quadro più 2 che moltiplica il quadrato di meno 2X più 3 che è 9 più 4X quadro meno 12X che è il doppio prodotto, uguale a 18. Abbiamo che 2 per 4X quadro è un 8X quadro più X quadro è un 9X al quadrato, 2 per 9 fa 18, 18 e 18 se ne vanno per la regola della cancellazione, 2 per meno 12X è un meno 24X uguale a 0. Raccoglieri a fattore comune un 3X per ottenere un 3X meno 8 uguale a 0 applicando la legge di annullamento del prodotto, otteniamo pertanto i due punti. ovviamente abbiamo che quando X è 0 oppure X è ovviamente 8 terzi. Avete visto che sono problemi molto semplici, mettiamo lì, se mettiamo X uguale a 0 che è l'equazione dell'asse delle ordinate, otteniamo appunto quello che immaginiamo essere il punto di intersezione, del punto di intersezione, tra l'altro dell'ellisse con l'asse delle ordinate 0,3, quindi il punto A possiamo dire che sarà 0,3. Beh, il punto B sarà 8 terzi sicuramente di ascissa, vediamo chi sarà l'ordinata, la mettiamo qui, viene un meno 16 terzi più 3, meno 16 terzi più 9 terzi è un meno 7 terzi, quindi diciamo che voi siete bravissimi a fare questi conti, io meno, avete sicuramente più velocemente di me trovato questi due punti di intersezione. A questo punto mi andrei, dunque mentre state vedendo adesso proprio al posto del mio corpo, diciamo della mia testa, state vedendo il grafico su Jojoba, dove potete vedere l'ellisse con la retta, io nel frattempo me la vado a rappresentare, è un'ellisse che ovviamente, abbiamo già detto, interseca l'asse delle Y nei punti 0,3 e 0,-3, potete notare che interseca invece l'asse delle X nei punti radici di 18,0 e meno radici di 18,0, quindi diciamo che tenendo presente che la radice di 18 in generale è un valore un pochino più grande di 4, possiamo dire che questa ellisse all'incirca, la sto intanto rappresentando, mentre voi continuate a vederla, sarà questa, e vedete come in effetti tracciando la retta d'equazione Y uguale a meno 2X più 3, che ha proprio intercetta in 3, diciamo che si va a ottenere quello che è appunto, ovviamente in terza galasse delle Y nel punto 0,3, e questo l'avevamo detto, in terza galasse delle X, e lo sottiene in questa attenzione dando 0 alla Y, nel punto 3 mezzi 0, viene fuori in pratica una retta, quella retta che potete vedere lì, e dove potete vedere appunto ci sono i punti A e B, ripeto rispettivamente, di coordinate 0,3 e 8 terzi meno 7 terzi. Siamo tornati qui, nel frattempo sono riuscito a farlo, eccolo qua, siamo all'incirca, è accettabile quello che ho fatto, a questo punto cosa manca? Manca il punto F, perché ci chiedono in questo problema l'area del triangolo ABF. Dunque, mentre tra poco vi faccio vedere anche chi è il triangolo di cui ne calcoleremo l'area, F è il fuoco, però i fuochi sono due, i fuochi abbiamo detto che stanno sull'asse delle X, e sono, ve lo ricordo, il fuoco, i fuochi, come se fossimo in cucina, i fuochi sono rispettivamente, hanno coordinate, meno C0 e C0. Vi ricordo che questo C, in generale C è proprio, ovvero la semidistanza focale, ve lo ricordo ancora, è la radice quadrata di A quadro, meno B quadro, quindi conoscendo i, sapendo le equazioni dell'ellisse, dalla quale si vedono chi sono le quale B quadro, cosa fai? 18 meno 9, che è appunto 9. C è la radice quadrata di 9, quindi, meno 3, 0 e 3, 0 sono proprio, eccoli qui, i due fuochi, F con 1, ed F con 2 della nostra ellisse. Quindi, in questo caso, chiamiamolo F, il fuoco di coordinate, ci dicono di ascissa negativa, quindi F è meno 3, 0, e quindi questo è il mio F, F2 non me ne importa nulla, mentre mi è caduta, è avuto il cancellino, eccolo qua il mio triangolo, il mio bel triangolozzolo, che verrà, eccolo qua. A questo punto, io sceglierei come base, la base, per esempio, AF, si potrebbe scegliere anche questa, e poi, l'altezza potrebbe essere effettivamente questa, no? La distanza di B, dalla retta contenente il segmento AF. Dunque, AF me la calcolo, la mia base B, quindi, può essere AF. Calcolare AF è facile, perché basta fare la distanza tra più punti AF, e quindi viene una radice di, ascissa di F, meno ascissa di A, che è meno 3, meno 0, che è meno 3, a quadrato 9, più, a ordinata di F, meno ordinata di A, e un altro meno 3, a quadrato 9, viene una radice di 18, che peraltro è un 3, radice di 2, no? Perché, radice di 18 è radice di 9, per radice di 2, 3 radici di 2. L'altezza H, ovviamente, vi ricordo che l'area di un triangolo qualsiasi, è base per l'altezza di 12, è la distanza della retta, contenente il segmento AF, che c'è nello a calcolare, dal punto B, 8 terzi meno 7 terzi, quindi basta fare, ovviamente la formula è modulo di AX con 0, più BY con 0, più C, fratto la radice di A quadro più B quadro. Dunque, la retta AF, la retta contenente il segmento AF, basta, per scriverla, basta scrivere l'equazione di una retta che passa per due punti, che sarà Y meno Y con 1, quindi Y meno 0, fratto 3 meno 0, Y con 2 meno Y con 1, uguale X meno meno 3, fratto 0 più 3. Cioè abbiamo ottenuto Y terzi, uguale X più 3 terzi, moltiplicando per 3, se ne va tutto, questa retta qua, è la retta di equazione Y uguale a X più 3, è la retta contenente, in pratica, il segmento AF, in forma esplicita, in forma esplicita, la retta F, ce la scriviamo qua, la retta contenente, ripeto, il segmento AF, è un X meno Y più 3 uguale a 0, ottenuta portando semplicemente Y a destra. A è 1, B è meno 1, C è 3, X con 0, Y con 0, sono le coordinate del punto B, rispettivamente 8 terzi e meno 7 terzi. A questo punto, formula della distanza punto retta, abbiamo l'altezza, quindi A è 1, per 8 terzi viene 8 terzi, più BY con 0, quindi un più, 7 terzi, in quanto meno 1 per meno 7 terzi è meno 7 terzi, più C è appunto 1 più 3, diviso la radice quadrata di A quadrato di A più quadrato, che è radice di 2, 1 al quadrato, meno 1 al quadrato è 1, radice di 1 più 1 è radice di 2, 8 terzi più 7 terzi è un 15 terzi, quindi 5 più 3 è 8, 8 fratto radice di 2 è la nostra altezza. A questo punto, in definitiva, possiamo dire di aver il patinio determinato, l'area del triangolo ABF sarà AF base per altezza, che non ho chiamato, ma sarà per esempio BH, è questa BH, diviso 2, tra i radici di 2, ho lasciato appositamente un 8 su radice di 2 così scritto, diviso 2, radice di 2 e radice di 2 se ne vanno, 8 per 3 fa 24, diviso 2, la metà di 24 è 12, effettivamente l'area deve venire 12, state vedendo, su GeoGebra, il triangolo che si è formato, che è un triangolo tra l'altro, di vertici ABF, e abbiamo risolto facilmente anche questo problema.